I partiti hanno trovato l'accordo. Bisognerà ora vedere se reggerà la prova della Casa Bianca. Accetterà Trump lo stanziamento di un miliardo e 300 milioni di dollari e la costruzione di un reticolato con dissuasori lungo 55 miglia di confine tra Stati Uniti e Messico? Questa la mediazione raggiunta da democratici e repubblicani per finanziare il Dipartimento per la Sicurezza Interna. Previsto anche un rafforzamento della vigilanza alle frontiere, oltre a stanziamenti per aiuti umanitari, attraverso altri 1,7 miliardi di dollari. Niente muro di acciaio e cemento, quindi, come vorrebbe il Presidente. Un impegno ribadito ieri in un comizio in Texas, terra di confine molto sensibile al tema. Parte del muro è costruita e continuerà. Procederemo ad un ritmo rapido, ha detto. Ma chissà che le pressioni dei parlamentari non riescano a fargli accettare il compromesso, che necessita comunque della sua firma entro venerdì 15 febbraio, quando, alle ore 24 di Washington, le 7 del mattino in Italia, scadrà la concessione dei finanziamenti che hanno consentito tre settimane di tregua dopo lo shutdown, ovvero il blocco del bilancio federale, a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno. Se Trump non firma, torneranno a chiudersi le casse e l'amministrazione pubblica per il personale impiegato in servizi giudicati non essenziali. Qualche migliaio di persone resterà a casa, in congedo, senza stipendio. E sarà chiuso l'accesso, tra gli altri, a musei, monumenti, parchi pubblici e centri di ricerca sanitaria.